davanti alle nostre telecamere 8 e 32 minuti in questo momento siamo pronti con il nostro appuntamento con il tg del mattino quello in cui ci facciamo aiutare dal nostro sito di informazione newsrimini.it tanto sport in apertura sul nostro sito ne parleremo tra un istante perché sia il calcio che il basket hanno giocato ieri ma ora portiamo subito dalla cronaca che troviamo sempre in home page sul nostro sito è stato investito da un'auto all'uscita di un parcheggio fortunatamente senza gravi conseguenze ma nel momento in cui è andato all'assicurazione ha fatto una richiesta di danni considerata eccessiva per questo un poliziotto in pensione è indagato per truffa all'assicurazione il fatto risale all'agosto del 2021 quando l'uomo, un riminese 63enne che aveva già lasciato la divisa era caduto a terra dopo che in scooter era stato colpito da un'auto guidata da una giovane donna i guai sono iniziati quando il 63enne ha dato scarico all'assicurazione infatti in quell'occasione ha dichiarato che nel cadere a terra si erano rovinati e rotti un paio di occhiali di marca, un cellulare iphone e delle costose scarpe per questo aveva chiesto un risarcimento di 1500 euro una richiesta che però è risultata non corrispondente al vero valore degli oggetti indossati la ragazza alla guida dell'auto infatti subito dopo l'incidente da lei provocata aveva fatto delle fotografie allo scooter e all'uomo foto che mostravano chiaramente come era vestito questa persona l'automobilista ha fatto una segnalazione ed è partita un'indagine dei carabinieri di Rimini coordinati dal sostituto procuratore Ercolani è emerso così che il poliziotto in pensione non indossava scarpe di marca ma ciabatte il telefono e gli occhiali non erano quelli di cui aveva chiesto l'indennizzo e da qui appunto questa indagine che poi ha portato anche a questa possibilità insomma di essere indagato per truffa all'assicurazione e ora torniamo su un argomento di cui abbiamo parlato molto negli ultimi giorni diciamo che è proprio uno di quei temi che ritornano se ci avete seguito nella giornata di sabato dove abbiamo raccontato la protesta dei residenti della zona dell'area di via Ugo Bassi dove si trova l'immobile che sarebbe dovuto diventare una questura lamentano grandissimi disagi anche furti e presenze poco gradevoli insomma anche attorno alle loro abitazioni sta di fatto che dopo la loro denuncia è partita anche una petizione si fa risentire nuovamente la società ASI che è la proprietaria proprio dell'immobile che ha acquisito all'asta e chiaramente torna sul suo progetto di riqualificazione ma anche fa emergere un ulteriore dettaglio quello che potrebbe essere definito ad avviso della società un possibile danno erariale ma sentiamo davanti alle nostre telecamere hanno raccontato il loro disagio hanno spiegato di aver lanciato una petizione perché sono stanchi del degrado e hanno chiesto che lo stabile dell'ex sequestura venga abbattuto la protesta dei residenti della zona di Viogo Bassi a Rimini stanchi di furti e danneggiamenti quasi quotidiani ha dato un nuovo assist ad ASI la società proprietaria dell'immobile ogni giorno riceviamo segnalazioni racconti responsabili del progetto Rimini Life Marco D'Adalto abbiamo investito denaro per rafforzare le misure anti-intrusione ma serve una soluzione definitiva una rigenerazione dice D'Adalto che restituisca vitalità al contesto la società torna a ribadire l'ultima proposta avanzata rinunciare a 17.600 metri quadri dei 23.700 acquistati all'asta per realizzare solo il supermercato sui 6.000 restanti e cedere gratuitamente al comune le aree rimanenti D'Adalto lamenta ancora una volta il mancato confronto con l'amministrazione e rimarca che il progetto non prevede nessun hub logistico a mio avviso afferma siamo giunti alla fine della corsa e chiama in causa anche un possibile danno erariale rinunciare a quest'ultima proposta dice esporrebbe la giunta ad una forte responsabilità se accadesse non esiteremmo a denunciare il tutto alla procura contabile per la valutazione del danno erariale per il quale nel caso dovrebbero rispondere i singoli consiglieri di maggioranza insieme ai dirigenti che hanno appoggiato queste azioni e ora parliamo di politica con questa notizia che troviamo sul nostro sito newsrimini.it il PD verso le elezioni il circolo Euterpe dice serve un segretario con piene funzioni dopo la candidatura sindaco di Sant'Arcangelo di Filippo Sacchetti si apre il dibattito sul segretario provinciale del Partito Democratico carica oggi detenuta dallo stesso Sacchetti in particolare dal circolo Euterpe del PD arriva una chiara indicazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali serve scrive il circolo in un suo documento un partito nel pieno delle sue funzioni a partire dai propri gruppi dirigenti e soprattutto dalle segreterie provinciali e comunali con segretari nel pieno delle loro funzioni per tali ragioni occorre che venga innanzitutto convocata una direzione provinciale per affrontare i temi e individuare un segretario nel pieno delle sue funzioni per affrontare in maniera efficace la fase elettorale per il PD Euterpe il modo per affrontare la pericolosa deriva democratica di questo governo e praticarle in ogni luogo di incontro decisionale in sostanza di fronte a probabilmente un grande impegno che Sacchetti avrà anche da candidato nel comune di Sant'Arcangelo c'è la preoccupazione che non abbia tutto il tempo per dedicarsi anche ad altri comuni ad altre realtà alle scelte dei candidati e quant'altro e quindi sostanzialmente il circolo PD Euterpe dice caro segretario parliamone insieme guardiamo anche quali possono essere le soluzioni migliori in questo momento proprio per agevolare il lavoro del partito su tutto il territorio e ora parliamo di reddito in particolare il reddito delle famiglie riminesi che torna ai livelli pre-covid ma resta e purtroppo non è una novità fanalino di coda in Emilia Romagna a mettere in fila i dati e la Camera di Commercio vediamo bene ma non benissimo i dati 2022 elaborati dalla Camera di Commercio della Romagna relativi al reddito disponibile delle famiglie riminesi evidenziano luci ma anche ombre a livello assoluto il reddito si attesta a 7.543 milioni di euro con un aumento del 4,4% rispetto all'anno precedente e con un pieno recupero rispetto al 2019 pre-covid per contro però si tratta di una crescita più contenuta rispetto a quella regionale e a quella nazionale guardando le altre province dell'Emilia Romagna a Rimini è addirittura all'ultimo posto sia in termini di variazione annuale sia rispetto al periodo pre-pandemico suddividendo il dato per famiglie il reddito disponibile pro capite nel riminese è di 22.274 euro con un aumento del 4,2% sul 2021 e anche sul 2019 ma con un gap di circa 2.000 euro rispetto alla famiglia media dell'Emilia Romagna Rimini occupa il penultimo posto a livello regionale lasciando dietro solo Ferrara e la 33esima posizione sulle 107 province d'Italia perdendo 6 posti rispetto all'anno precedente e addirittura 11 rispetto al 2019 quello sul reddito disponibile è statisticamente un dato di grande rilevanza per valutare il livello di benessere economico evidenziando le risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare bisogni attuali o futuri per acquistare beni e servizi di consumo o anche per risparmiare tre giorni per sognare la città del futuro e ciò che hanno vissuto da venerdì a domenica oltre 60 studenti riminesi che guidati da alcuni facilitatori si sono incontrati negli spazi dell'ex cinema a storia invitati dall'associazione Il Palloncino Rosso e da Fattor Comune Oltre 60 studenti riminesi impegnati in un hackathon di tre giorni per immaginare le città del futuro col tema conduttore del riutilizzo degli spazi urbani che è anche la vocazione dell'associazione Il Palloncino Rosso promotrice di React insieme a Fattor Comune società che aiuta le imprese e le organizzazioni nell'innovazione In tre giorni proveranno a rompere le regole in maniera del tutto innovativa proveranno a proporre dei progetti di rigenerazione urbana nel nostro territorio L'unità di intenti per realizzare questa hackathon questa attività di tre giorni ci ha trovato subito entusiasti perché le tematiche sono effettivamente proprio quelle del Palloncino poi ci ospita la storia che già di per sé è oggetto di rigenerazione urbana partecipata da due anni e quindi tutti i puntini si uniscono quindi siamo molto molto orgogliosi e contenti di come sta riuscendo fino ad oggi A giudicare i progetti una giuria di esperti rappresentanti di vari settori per i ragazzi l'opportunità di mettersi in gioco anche su aree in abbandono delle loro città come il Parco del Gelso a Bellaria e Giamarina io l'ho pensato perché era un posto molto molto usato era un posto molto frequentato e ha chiuso all'improvviso e era pieno di gente di giovani di bambini o comunque anche di persone più grandi che lo sfruttavano per passare il tempo e per fare delle attività comunque ricreative Per ora molto bene noi abbiamo delle bellissime idee che stiamo provando a mettere in pratica e organizzare e niente speriamo venga bene e è anche molto interessante dal punto di vista di esperienziale provare queste cose come se fosse un lavoro vero Soprattutto un'ottima opportunità per fare team working conoscere persone nuove e lavorarci assieme ci dividiamo i progetti e cerchiamo di andare tutti d'accordo in modo tale per raggiungere un obiettivo comune La notizia di qualche giorno fa Romagna Mia nel settantesimo della sua creazione sarà celebrata sul palco dell'Ariston ad annunciarlo è stato il direttore artistico nonché conduttore Amadeus e ieri è arrivata una risposta un ringraziamento da parte della famiglia Casadei in particolare dalla figlia di secondo Casadei Riccarda che dice io e la mia famiglia ci terremo a ringraziare con tutto il cuore Amadeus proprio perché ha deciso di ospitare Romagna Mia la più popolare canzone scritta da mio padre secondo Casadei così celebrare i 70 anni di un brano entrato nel cuore di tante generazioni di persone Romagna Mia ha risuonato nell'ultimo anno in ogni dove diventando non solo una canzone che accompagna momenti spenserati ma anche un inno alla speranza la gente l'amata spontaneamente fin da subito portandola in giro per il mondo e facendola proprio ognuno dedicandola alla sua terra d'origine come figlia immagina un mio padre felicissime di incredulo ridere orgoglioso sotto i suoi baffetti per questo incredibile traguardo e sapere che proprio i giovani interpreteranno la nostra canzone Santa Valere ci rende ancora più felici sapendo di coinvolgere la generazione Z in un ideale passaggio del testimone del liscio e dal liscio che rappresenta la nostra terra invece ad una tradizione culinaria che rappresenta sempre la Romagna perché anche quest'anno Viserba si promuove a suon di pesce e piadina a Cavalese nel fine settimana della Marcia Longa la più partecipata delle manifestazioni di sci di fondo in Italia che è giunta alla 51esima edizione dovremmo anche avere qualche immagine che ci racconta proprio di questa presenza di Viserba in Val di Fiemme sotto il coordinamento del comitato turistico Borgo Viserba 22 persone sono salite in Val di Fiemme per allestire gli stand gastronomici nella piazza centrale di Cavalese ad accompagnare la spedizione anche l'assessore del comune di Rimini Roberta Frisoni tre i quintali di pesce sottoposti alle griglie viserbesi per un'amicizia che si consolida con la località turistica montana un gemellaggio sottolineato anche dal sindaco di Cavalese Sergio Finato che per la notte rosa aveva contraccambiato la visita portando per le vie del centro di Rimini la storica banda musicale della sua cittadina insomma vediamo tanti viserbesi impegnati a preparare una bella rustida e ad allietare così anche le persone che sono in questi giorni in vacanza in montagna anche che hanno partecipato alla marcia lunga e a questo punto è tempo di sport non montano ma sport di casa nostra perché ieri si sono giocate sia le partite di calcio che di basket che riguardano le squadre del nostro territorio e allora anche grazie al nostro sito andiamo a parlare subito di calcio un Rimini che parte bene nel confronto con il Pineto ma poi viene raggiunto e forse un risultato quello del pareggio che non soddisfa pienamente i ragazzi biancorossi ma andiamo per ordine prima vi raccontiamo tramite questo servizio come è andata la partita seconda partita casalinga consecutiva per il Rimini dopo il match di Coppa con il Catania i biancorossi per la ventitresima giornata di campionato ospitano il Pineto che li precede in classifica di un punto 27 romagnoli 28 di abruzzesi che all'andata si impose 1-0 e che non vince dal 3 dicembre tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime 6 giornate mister Troise recupero Ubaldi resta in infermeria il solo Capanni prima del calcio d'inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva al sesto corner di La Mesta Lepri colpisce di testa contro traversone di Megalitis è stoccata vincente dallo stesso Lepri Rimini in vantaggio al quattordicesimo contatto in era tra Gigli e Ingrosso gli ospiti chiedono il rigore l'arbitro non è dello stesso avviso e in campo si accendono gli animi al ventunesimo La Mesta riceve a destra si accentra poi serve del carro il cui tiro è deviato fuori dallo specchio al ventisettesimo punizione dall'out di sinistra per il Rimini la Mesta mette in mezzo del carro colpisce di testa la retroguardia ospite si salva al trentottesimo cross di Morra Villa tocca di testa Gigli incorna in rete da due passi ma il gol non viene convalidato per un presunto fuorigioco del difensore biancorosso al quarantesimo il colpo di testa di Volpicelli chiama l'intervento non complicato Colombi al quarantaduesimo Morra fugge via sinistra il suo primo tentativo è ribattuto da Tonti il secondo è alle stelle con Del Carro solo un passo dalla porta al sesto della ripresa il tiro di Semeraro sul palo vicino trova la risposta in angolo di Tonti all'ottavo cross di Megalitis incornata di Del Carro il portiere dei Gabruzzesi attento al tredicesimo Germinario mette in mezzo Manu impatta di testa colpo sicuro Colombi si supera e Chakir fallisce il tapin al ventiquattresimo Semeraro fa passare la palla sotto le gambe di Njambè Morra non ci crede e sfuma un'altra ghiotto opportunità i tanti errori sotto porta dei biancorossi vengono puniti al trentaduesimo dalla punizione di Volpicelli che passa in mezzo dalla barriera e si infila nell'angolo basso e il gol dell'1-1 al quarantunesimo idea di Sala per Ubaldi che mette in mezzo Morra deposita in rete ma c'è la baglierina dell'assistente alzata gol non convalidato dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio l'1-1 finale non può certo accontentare la Rimini che Sala 28 il Pineto si porta a 29 e resta avanti sabato prossimo i biancorossi saranno di scena a Perugia e sugli spalti in pratica c'era anche il vescovo di Rimini Niccolò Anselmi che nonostante la nebbia è riuscito a seguire insieme a tutti gli altri che coraggiosi sono arrivati a Romeo Neri la partita ma dicevamo torniamo proprio ai commenti del dopo partita in particolare quello di mister Truisi che dice siamo stati sciuponi lo abbiamo visto anche nelle immagini quante gol si potevano fare con queste palle particolarmente interessanti non è stato così però poi c'è anche un rimarcare il fatto che il gol di Gigli era regolare ma sentiamo proprio il mister Truise beh intanto intanto perché la partita credo l'abbiamo l'abbiamo vista tutti è stata comunque ben approcciata abbiamo trovato subito il vantaggio che chiaramente una partita del genere ti dà quel vantaggio per chi sapevamo poteva essere molto complicata in termini di contenuti di gioco detto questo poi abbiamo avuto tante situazioni per raddoppiare siamo stati un po' sciuponi e quando la tieni in vita poi è chiaro che un episodio come quello della punizione piuttosto che quell'occasione che hanno avuto al secondo tempo un po' più clamorosa può determinare un risultato a noi stretto in queste situazioni poi ci mettiamo anche un errore madornale dell'assistente sul gol di Gigli regolarissimo ma questo non per fare critica perché mi ha parlato di fuorigioco di quando è partito il cross di Morra e a rivederlo nell'immediato Gigli era completamente dietro il suo avversario ma andiamo avanti andiamo avanti perché c'è da andare avanti come dicevo ieri ci sono ancora tante partite ci prendiamo questo punto muoviamo la classifica una classifica molto corta recuperiamo le energie e prepareremo al meglio la partita di Perugia e se c'è un po' di amarezza in casa Rimini invece ci sono sorrisi in un'altra casa Rimini quella bianco-rossa del basket perché RBR è andata ad espugnare il parquet di Trieste portandosi a casa un bel risultato con una partita finita 76 a 90 vediamo per la ventunesima giornata del campionato del due girone rosso la penultima di regular season Riviera Banca Rimini va a far visita alla pala canestro Trieste quarta in classifica con 28 punti il doppio di RBR che ha 14 e reduce dal recupero vinto con chiusi i giuliani devono fare a meno di Ruzzi all'andata al Flaminio Trieste si impose nettamente 62 a 81 parte forte RBR 0 a 5 dopo i canestri di Enumbe Marx campo grande accorcia da tre sarà l'unico canestro di Trieste dalla distanza su 11 tentativi nel primo parziale Marx è scatenato e arriva in doppia cifera già nel primo tempino chiuso con Rimini che doppi padroni di casa 11 a 22 anche l'avvio della seconda frazione è tutto di marca romagnola grazie ai canestri di Tomassini Scarponi e Masciadri che completano un parziale di 10 a 0 che fa toccare i ragazzi di Dell'Agnello il più 18 11 a 29 interrompe il break Brooks a segno con due liberi Rimini continua con ottime medie dall'arco a segno Tassinari Grande Masciadri ma Campogrande Bossi e Candussi replicano con la stessa moneta e all'intervallo lungo si va con RBR avanti di 10 34 a 44 Candussi prova a riavvicinare i suoi dal rientro in campo 37 a 44 Marimini ritrova un rassicurante più 17 dopo la tripla di Johnson 37 a 54 Marx fa toccare Riviera Banca per la prima volta il più 20 sul 37 a 57 due triple di fila di Brooks rimettono in corsa Trieste 50 a 62 il terzo tempino è chiuso dal canestro di Scarponi 50 a 64 sono i lunghi Vildera e Candussi top scora del match con 21 punti a suonare ancora la carica per i Giuliani che tornano a meno 10 57 a 67 sale in cattedra allora Johnson con 6 punti consecutivi RBR vola ancora sul più 16 57 a 73 c'è ancora tempo per una tripla di Marx che chiude a quota 20 e una di grande che chiude a 15 come Johnson finisce 76 a 90 Riviera Banca sa la quota 16 in classifica e si prepara ad ospitare Udine soddisfazione del coach di RBR dell'agnello che abbiamo sentito nel dopopartita ovviamente siamo molto soddisfatti perché abbiamo fatto una partita molto solida e credo siamo stati anche molto coriacei credo che per gran parte delle 40 minuti abbiamo fatto anche una buona pallacanestro noi avevamo un'idea ben precisa prima della partita cioè togliere loro la caratteristica principale che hanno cioè il tiro da tre ovviamente loro avrebbero tirato da tre perché nelle corde dei loro giocatori l'idea di non farli tirare mai liberi che sembra una banalità ma non lo è siamo riusciti spesso e volentieri infatti oggi hanno avuto una percentuale bassa da tre che ci ha sicuramente favorito mi hanno sofferto un pochino a rimbalzi ma loro strutturalmente sono più grossi gli atletici di noi e quindi c'era poco da fare e secondo me in attacco abbiamo giocato molto bene perché abbiamo sempre siamo sempre riusciti quasi sempre a non fermare la palla e a trovare uomini onestamente spesso liberi e direi che abbiamo meritato di fronte a un organico veramente impressionante per la Serie A2 C'è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite qual è il potenziale di questa squadra cosa può fare ancora? Viviamolo oggi guarda se no ci scottiamo e basta noi prima della partita abbiamo detto grande fiducia perché stiamo andando bene ma con grande umiltà è quello che dobbiamo continuare a fare perché noi stiamo vincendo ma la posizione di classifica rimane non brillantissima adesso ci abbiamo un altro scalino impegnativissimo che è utile in casa però giocando così io ho buone sensazioni e ho fiducia insomma buona prestazione anche per le ragazze dell'OMAG MT nel campionato di volley a due F1000 vittoria al tie break con la futura Giovanni Bustarsizio partenza sprint dell'OMAG in questa polpromozione davanti al numeroso pubblico amico del Palarmarignano Ortolani e compagni conquistano due punti con la vittoria al tie break su Bustarsizio le ragazze non hanno mostrato segni di emozione nella prima apparizione della post season se la prima frazione ha visto il gruppo di Amadio imporsi abbastanza facilmente così non è stato nei successivi parziali l'ottima prova al servizio ha consentito alla compagine marignanese di imporre il proprio gioco solo poche sbavature sul finale del terzo set hanno consentito alle Lombarde di aggiudicarsi il parziale costretto le padrone di case alla rimonta un finale comunque dominato e segnato da un importante contributo in arrivo dal centro Busto ha tentato di riaprire la contesa prima del cambio campo ma la corazzata casalinga non si è arrestata e ha conquistato una grande meritata vittoria Alice Turco che ha mandato in doppia cifra tutte le attaccanti è MVP del match da segnalare come detto la grande gara disputata dalla coppia centrale Parini Consoli e l'ottima prova di Pecorari efficace al servizio e costante in attacco e questa sera torna il nostro appuntamento con Calcio.Basket a partire dalle 19.35 i campionati minori poi si parlerà chiaramente del Rimini ma anche del basket con la squadra condotta da Roberto Bonfantini ma anche tanti ospiti e tanti opinionisti a questo punto lasciamo il nostro sito newsrimini.it andiamo a dare uno sguardo grazie alla cartografia di Google Maps alla situazione del traffico sulle strade riminesi vediamo al momento sono le 8.56 questo è il traffico in particolare nel capoluogo sì c'è traffico ma neanche eccessivo insomma qualche tratto arancione qualche tratto rosso che indicano proprio una maggiore concentrazione di automobili in particolare sulla statale 16 e sulla via Flaminia per quello che riguarda invece il traffico autostradale si segnalano code nel tratto riminese della 14 in prossimità di Faenze poi attenzione alla nebbia invece scendendo verso le Marche e andiamo a chiudere con il meteo perché insomma questo tema della nebbia probabilmente ci terrà compagnia per buona parte della settimana allora andiamo a leggere le previsioni per quello che riguarda il meteo regionale lo facciamo tramite il sito dell'ARPA della regione Emilia Romagna per la giornata di oggi cielo sereno sui rilievi e nebbie o foschie dense sulla pianura e sulla costa in dissolvimento nelle ore centrali della giornata nelle ore serali e notturne purtroppo nuova formazione di nebbie estese e persistenti anche sul nostro territorio riminese ma vediamo dalla grafica come la nebbia sia un po' ovunque nella pianura padana chiaramente vengono risparmiate le zone più collinari e montane per quello che riguarda invece in particolare la previsione per il territorio riminese al volo lo andiamo sempre a leggere dalle pagine dell'ARPA poi andiamo proprio a prendere nel dettaglio la situazione riminese lo facciamo tramite la grafica eccoci qua la mattina appunto con nebbia la sera torna la nebbia ci godiamo un po' di sole nelle ore centrali della giornata e una tendenza vi dicevo che permarrà anche nei prossimi giorni questa ad esempio è domani martedì 30 gennaio sempre foschie e nebbie al mattino e in serata e il mese di gennaio lo chiudiamo con un po' di foschia e di nebbia sulla costa e invece non dovrebbe esserci sui rilievi questa situazione con temperature abbastanza soprattutto le mine ma abbastanza fredde che sono attorno all'1 e ai 2 gradi 8.58 noi arriviamo al termine del nostro primo TG del mattino pochi minuti e ci troviamo insieme ad Andrea Polazzi nello studio di Tempo Reale per iniziare una nuova settimana insieme grazie a voi tutti per averci seguito l'augurio di una buona giornata e di una buona settimana